Buonasera a tutti. Io stasera ho l'onore e l'onere, così dicono le persone beneducate, di aprire questo incontro sull'innovazione. Nei 18 minuti a disposizione proverò a raccontarvi che cosa è secondo me l'innovazione e quali sono secondo me i costituenti fondamentali dell'innovazione. Lo farò prendendo ad esempio l'esperimento AMS al quale ho lavorato negli prossimi 10 anni. Un esperimento che il 16 maggio lo shuttle Endeavour, nell'ultimo volo dello shuttle americano, ha portato da Cape Kennedy sulla stazione spaziale questo esperimento e là rimarrà a fare il suo mestiere, spero, per i prossimi 10 anni. Un esperimento pieno di innovazioni, innovazioni tecnologiche intendo. Stasera cercherò di convincervi che innovazioni ce ne sono tante e non necessariamente quelle tecnologiche sono le più importanti. Magari sono quelle che rendono più facile e più divertente la nostra vita quotidiana, ma non necessariamente sono sempre e comunque le più importanti. Comunque questo esperimento era anche pieno di innovazioni tecnologiche, perché 10 anni fa decidemmo di andare a fare questa ricerca che riguarda il campo delle particelle elementari, la creazione dell'universo, il perché l'universo è fatto come lo vediamo, perché le galassie sono fatte come le vediamo. Perché noi esistiamo? Questa cosa molto bella che ogni tanto ci scordiamo, che noi esistiamo semplicemente perché una stella è scoppiata. Dentro di noi c'è un pezzo di stella, il materiale di cui siamo fatti non potrebbe esistere se non fosse esplosa una stella dentro un pezzo di noi dove all'interno di questa stella c'era un pezzo di noi. Io per i 30 anni precedenti ho fatto esperimenti all'interno degli acceleratori utilizzando esperimenti come questo. Questo è l'esperimento CMS che sta funzionando al CERN a Ginevra per studiare eventi come questi, eventi caotici e dove nell'estremamente piccolo ci sono dentro tutte le leggi che ci raccontano la storia dell'universo e quindi anche la storia di noi, lo dicevo prima, anche di ciò che siamo fatti e tutte le motivazioni, le origini, le spiegazioni a ciò che siamo sono dentro eventi di questo tipo che vengono studiati al CERN. Noi abbiamo deciso di andare a fare questa ricerca non in un acceleratore normale ma andarlo a fare nello spazio e quindi la differenza tra farlo nello spazio e farlo a terra è che a terra abbiamo a disposizione un sacco di potenza elettrica, possiamo fare cose pesantissime. Nello spazio tutto questo non è possibile. Ma prima di raccontarvi perché invece di farla agli acceleratori come l'ho fatto per 30 anni in tutta la mia vita abbiamo deciso di andarla a fare nello spazio, vi vorrei raccontare il perché di questo titolo che è un po' dissacrante rispetto a quello che potrebbe essere la grandezza della scienza e l'immensità dell'universo. La montagna bruna è il turbo che percuote il legno. Da dove nasce questo titolo? È che mentre ero lì che guardavo l'orologio del cut down che stava arrivando verso zero e quindi doveva partire lo shuttle con dentro il frutto di dieci anni del nostro lavoro, fatti di successi, insuccessi, discussioni feroci tra colleghi e tra un attimo vi racconterò perché c'erano discussioni feroci tra colleghi, finalmente stava per partire e mentre ero lì in silenzio, sinceramente col groppo alla gola perché si ha sempre il groppo alla gola in momenti come quello, non mi è venuta in mente una grande frase tipo quello un piccolo uomo, un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità, mi sono guardato intorno, ho guardato i miei colleghi e l'unica idea che mi è venuta in mente è stata quella siamo un banco di matti. Non è che me ne sono venute in mente molto altre, non è un nobile pensiero ma mi è venuta da pensare che eravamo un branco di matti perché in fondo anche noi come Ulisse, questa è l'immagine che ho usato nel titolo del ventisesimo canto dell'Ulisse e in quel momento mi è venuto in mente appunto questi ricordi scolastici, stavamo superando le colonne d'Ercole, cioè andavamo a sperimentare non in un posto tranquillo come può essere Ginevra oppure Fermilab a Chicago e così via, ma stavamo andando a studiare l'universo nello spazio e quindi come lui stavamo superando le colonne d'Ercole e così come lui ci saremmo trovati probabilmente davanti una montagna bruna che per noi giusto appunto è il buio, noi quello che vogliamo fare con questo esperimento è andare a cercare risposte cercando la luce nel buio, il buio vero, quello che ciascuno di noi non può immaginare, il buio fatto dell'assenza del tutto perché questo è lo spazio, è l'assenza del tutto eppure lì dentro possiamo trovare la risposta al perché della nostra esistenza, al perché della nostra vita e quindi in un certo senso trovavo proprio questo ricordo che mi era venuto là per là durante i momenti del lancio e al tempo stesso mi era venuto in mente anche il fatto che per esorcizzarlo mi era venuto in mente il turbo che dalla montagna bruna parte e che percuote il legno affondandolo e io ho detto no speriamo, l'abbiamo pensato tutte, non può succedere che quando arriviamo là su nella stazione spaziale l'oggetto non funzioni e fortunatamente invece l'oggetto sta funzionando. Ma perché invece di fare il nostro esperimento in un acceleratore normale abbiamo deciso di andare nello spazio? Beh la ragione è molto semplice, è perché l'universo per quanti saranno gli sforzi dell'uomo è e rimarrà per sempre il più grande acceleratore del mondo, cioè là dove si producono particelle che possono produrre gli urti che vi ho mostrato un attimo fa alla massima energia possibile inimmaginabile che possa essere raggiunta sulla terra per quanti sforzi si possano fare. Ma perché il nostro era un follevolo? Il nostro era un follevolo perché per fare un esperimento nello spazio ci abbiamo da fare le stesse misure, caratterizzare quegli eventi con masse estremamente più piccole, quelle che vi ho mostrato prima sono centinaia di tonnellate, noi avevamo a disposizione 6.400 kg, né uno di più né uno di meno, le litigate era che tra colleghi per costruire questo esperimento, colleghi di tutto il mondo, ci siamo litigati letto, letto grammo, i cento grammi, così come ci siamo litigati quanto doveva essere grossa la struttura che sosteneva il nostro pezzo di apparato sperimentale, perché uno shuttle quando parte da delle sollecitazioni meccaniche inimmaginabili, vi dico inimmaginabili perché io non avevo mai lavorato nello spazio, io ho sempre lavorato negli acceleratori e anche per me è stata una novità, nel senso che ne abbiamo costruiti due di esperimenti uguali a quello che abbiamo lanciato, uno per dovere è stato distrutto, frantumato, perché bisogna provare quanta sollecitazione meccanica è capace di sostenere. Sulla terra poi la temperatura cambia ma non cambia di molto, nello spazio ogni 40 minuti si passa da meno 40 gradi a 60 gradi e per tutta l'elettronica sofisticata che questi esperimenti richiedono è assolutamente uno shock terribile e bisogna pensarne di tutte per poter superare questi tipi di shock. Il problema nello spazio c'è il vuoto, il vuoto vuol dire per esempio che è difficilissimo dissipare il calore, noi non si ha un'idea nella nostra vita quotidiana dell'utilità dell'aria nel portare via il calore che produciamo, questi esperimenti producono calore perché stanno accesi e dissipare il calore è difficilissimo a causa del vuoto e oltretutto il vuoto c'è anche il difetto che se per caso uno dei nostri rivelatori c'ha dentro del gas tende a scoppiare e questo è un altro dei grossi problemi che abbiamo dovuto affrontare, tutti noi eravamo newcomers, cioè nuovi venuti nel campo di questo tipo di ricerca e l'altra novità derivava dal fatto che non eravamo abituati a non avere la presa della corrente a disposizione. Ogni watt, è stata un'altra sorgente di discussione, è un qualche cosa che bisogna conquistarci perché laggiù la corrente non c'è, non solo, ma nello spazio se qualcosa si rompe non è sostituibile e quindi bisogna inventarci cose che se si rompono capiscono che si stanno rompendo in maniera automatica danno vita a un pezzo accanto uguale che si accorge che l'altro sta morendo per poter continuare a lavorare. Queste sono difficoltà enormi che richiedono innovazioni tecnologiche che credo prima o poi avranno anche ricaduta nella nostra vita quotidiana e che ci siamo dovuti inventare, in dieci anni ce le siamo inventate di tutti i colori. Alla fine il risultato è questo oggetto del peso di 6400 kg, come vi dicevo, non lo potete vedere perché è già tutto coperto per proteggerlo dai micrimoteoritici, che è un'altra cosa, cioè questo è uno strumento delicatissimo che lavora in mezzo a una sassaiola e deve essere comunque capace nonostante tutto di continuare a lavorare. Ecco, questo è come è fatto dentro, non ve lo racconto perché in 18 minuti e poi vedo che ormai il tempo è quasi finito, non riesco a raccontarvi tutto. L'unica cosa che vi vorrei far vedere sono le bangerine italiane, le bangerine italiane sono i pezzi tutti inventati, costruiti da ditte italiane fatte in Italia con la collaborazione degli stranieri e diciamolo chiaramente, spesse volte gli stranieri ci hanno messo i soldi, le idee ce le mettevamo noi. Io credo che questo, specialmente in momenti come questo, possa e debba essere un motivo di orgoglio. Noi non dobbiamo aver paura di confrontarci col futuro. Io credo che l'Italia e il nostro paese abbia le energie culturali e umane per poter vincere qualsiasi tipo di sfida. Alla fine siamo partiti e questo è il momento nel quale un braccio meccanico sta spostando il nostro esperimento per installarlo sulla stazione spaziale. Il caso ha voluto, e se qualcuno di voi l'osserva da vicino, che questo si è accaduto esattamente mentre sorvolavamo l'Italia. È stato un caso. Quel bianco che vedete sono le Alpi, se qualcuno di voi osserva meglio questa fotografia vede il Friuli, il Veneto, sulla coda dello Sciatto e la Lombardia e in fondo potete vedere lo stivale. Alla fine l'esperimento è stato installato e questa è l'unica fotografia non vera che vi faccio vedere. Questo è un modellino, è dove il nostro esperimento sta all'interno della stazione spaziale. Per fare che cosa abbiamo fatto questo esperimento? Ecco, qui si passa dall'innovazione tecnologica a quella che secondo me è l'innovazione più importante, l'innovazione delle idee, del nostro modo di pensare, di come noi guardiamo la natura che ci circonda, di come noi ragioniamo. Queste sono le innovazioni vere, profonde, quelle che cambiano la nostra vita, quelle che cambiano, che creano qualcosa di nuovo all'interno della storia dell'umanità. Beh, noi siamo andati laggiù per cercare la materia oscura, che è una materia che sappiamo che esiste, lo sappiamo cercando di guardare le galassie che ruotano, oppure da fotografie come queste, sono due galassie che si urtano e il modo col quale si urtano ci dice che nell'universo c'è dell'altra materia che sicuramente c'è ma noi non sappiamo che cos'è. E questa materia è stata fondamentale nella formazione delle galassie, ma giusto per andare di corsa, perché ormai il tempo che mi rimane è pochissimo, per dirvi quanto è grande la nostra ignoranza, e lo possiamo dire in un posto così pieno di cultura come questo, è che tutto ciò che noi vediamo con qualsiasi strumento nell'universo rappresenta solo il 5% di che cosa è l'universo. L'uomo non conosce il 95% dell'universo, per quante sonde si siano mandate a giro, per quanti telescopi guardino, qualunque cosa, la nostra ignoranza è immensa, rappresenta il 95% dell'universo, è impressionante se ci pensate bene. Noi abbiamo l'ambizione almeno di spiegare un 25% di quello che non sappiamo. L'altro problema al quale cerchiamo una risposta è che fino a fatto l'antimateria. Adesso nell'universo non c'è antimateria, eppure al momento della creazione dell'universo è stata creata tanta antimateria quanto antimateria. La materia era un briciolino di più, ma giusto un briciolino. L'antimateria è sparita. Perché sia sparita non lo sappiamo. Se noi siamo andati su per cercare di capire, non vi posso raccontare in 18 minuti come, perché l'antimateria è sparita e perché è importante, non solo per conoscere, ma pensate per un attimo se noi riuscissimo a capire il meccanismo per il quale la materia si mangia l'antimateria. Se noi riusciamo a capire quel meccanismo e poi lo riusciamo a invertire, possiamo produrre antimateria partendo dalla materia. A quel punto il problema energetico dell'umanità è risolto per sempre. Energia pulita. Se riuscissimo a capire quel meccanismo e a invertirlo, e sicuramente è invertibile, a quel punto lì il problema energetico del mondo sarebbe risolto. Quando si va a fare queste ricerche non si fanno a fare solo per conoscere. Uno come me lo fa solo per conoscere, ma in realtà hanno sempre delle potenzialità enormi per l'umanità intera. Bene, mi rimane un minuto e allora vorrei concludere questa mia presentazione dicendo quelli che sono per me le quattro basi fondamentali dell'innovazione. La prima è il lavoro, matto, disperatissimo, dieci anni in cui non esiste niente, dove la nostra testa è solo concentrata a risolvere questi problemi. Il secondo mattone fondamentale è l'ottimismo. Ce ne vuole tanto e bisogna molto spesso ricordarci che i nostri fallimenti, se li sappiamo raccontare, in realtà sono utili perché a coloro che proveranno dopo di noi sapranno che cosa non fare. E questo è un ottimismo che ci deve sostenere sempre, perché è dura. Non sempre si vede uno shuttle che parte e che ci riempie di gioia, di soddisfazione e magari anche di gloria. Nel mezzo ci sono tanti fallimenti, tante notti che si passano disperati perché non si sa risolvere qualcosa. Il terzo mattone è il dubbio. Mettere sempre e comunque in discussione qualunque cosa. L'accettazione a critica del sapere che abbiamo alle nostre spalle è la più potente fonte di ignoranza che ciascuno di noi ha sulle spalle. Mettere in dubbio sempre e comunque tutto. Si mette in dubbio Newton, si mette in dubbio Galileo, si mette in dubbio Einstein. Solo così si crea innovazione. Altrimenti rimaniamo nell'ignoranza per sempre. E infine l'ultimo mattoncino. Il coraggio. Il coraggio. Il coraggio di cambiare. Il coraggio non aver paura a affrontare cose che non abbiamo mai fatto, che non sappiamo come fare. Il coraggio di pensare in maniera nuova, diversa da come tutti gli altri hanno pensato. Ed infine il coraggio più importante. Nel momento più duri, nei momenti in cui facciamo una sintesi del nostro lavoro, non aver mai paura di dire ho sbagliato. Grazie.